L'umanità è parte della Trinità per Gesù asceso al cielo e Lui l'ha apportato la nostra umanità in qualche modo, ha già anticipato il cielo che tutti speriamo e desideriamo. E' il nostro Avvocato, e' il nostro Difensore, e' il nostro Salvatore. In qualche modo possiamo già vederci in cielo nella meta finale. Fermiamoci qui, se no l'omenia è troppo lunga e ci si perde. Ricordiamoci che ciò che conta è l'essere e trovare origine nel dono dello Spirito, che celebreremo la prossima domenica, che ci apre alla vita, ci permette di andare perché questo Spirito, che è la vita di Dio in noi, non ci abbandonerà e ci porterà fino al cielo, ma camminando giorno per giorno con responsabilità e solidità sulle strade di questo mondo e di questa terra, che dobbiamo amare perché è il luogo della nostra testimonianza, del nostro essere discepoli e fare discepole, come ci ha detto Matteo, tutte le genti. Amen. Grazie.